Alcuni attivisti tedeschi per il clima del gruppo Ultima Generazione hanno spruzzato vernice arancione sulla porta di Brandeburgo a Berlino. L'azione è mirata a spronare il governo tedesco ad adottare misure più efficaci nella lotta contro i cambiamenti climatici. In particolare si chiede alla Germania di abbandonare i combustibili fossili entro il 2030 o ancora di imporre un limite massimo di velocità di 100 km orari sulle autostrade tedesche. Il sindaco di Berlino ha criticato la protesta giudicandola inaccettabile nella forma.